non erano scureggia ma mi sono solo mossa top ciao ragazzi bentrati in questo nuovo video e scusate il look ultimamente sono sempre riccia però non lo so se al 2020 porta cambiamenti e io ultimamente vi sento una riccia che fa i soffoconi top e però niente come avrete letto dal titolo top come avete letto dal titolo in questo video torno a parlare del celebre adesso podcast top e vi vorrei parlare di una cosa che ho scoperto diciamo io sono bionda e quindi diciamo non pensa molto però e ad essere sincera devo dire anche che non ho mai seguito tutta una loro puntata solo che l'altro giorno ma non mi ricordo quando era mi sembra o l'ieri o l'altro ieri mi stavo depilando non so se si può dire mi stavo depilando il cosiddetto ano io tipo spero tu non mi manda restrizione vabbè sai stavo facendo le cose da donna e quindi c'avevo tanto tempo libero ed è e quindi diciamo ho avuto il piacere di seguire il cebro l'esa podcast che stavano parlando di quella cosa di frida sinceramente non mi ricordo però stavano parlando di frida che tipo una pagina che parla di tutta roba di donne no e io lo stavo seguendo e sono arrivato a una conclusione nel senso non so se voi conoscete red lilium io sì mi fa molto piacere che sta cercando di conquistare l'uccello di giovanni zummo no però ogni cosa diciamo io la seguo pure su instagram lei no e se guarda questo video la saluto ciao gattaccia top però non so se vorrà seguire su instagram però ogni argomento che lo tratta su instagram poi non so come e lo trattano pure al celebro l'eso podcast e questo mi ha fatto pensare una cosa cioè per dirvi no lei ha iniziato questa battaglia contro zoomino battaglia cioè poi spero finisca tutto a tara lucevino con a bionda che conta top lei ha iniziato questa battaglia contro zoomino e se voi non lo sapete però diciamo lei ne ha pure parlato nel celebro l'eso podcast ma no mi sembro shakira adoro hips don't lie e soffoconi top però cioè non so se voi lo sapete però lei ha iniziato questa battaglia contro giovanni zummo e ne ha parlato pure nel celebro l'eso podcast io sono finito nel celebro l'eso podcast perché diciamo ho fatto un video dicendo che lei voleva l'uccello di giovanni zoom cosa che io attualmente penso ancora e quindi per questo nel senso io sono finito là perché parlavo di un argomento e riguardava pure lei questo per dirvi non so se voi avete già letto il titolo però in questo video io vi dirò chi è chi secondo me sta dietro il celebro l'eso podcast questo perché nel senso io mi sono sempre chiesto come tre uomini etero penso sono tutti tre etero credo potessero portare argomenti così interessanti no perché dico dio gli uomini etero sono stupidi c'è prendono la metro e ragionano con l'uccello come fanno portare argomenti così interessanti no e poi diciamo guardando la live ho avuto la mia risposta nel senso io vi stavo dicendo prima no io sono finito al cebro l'eso potra solo perché ho parlato di zoomino e chi parla di zoomino di loro tre cioè io penso che marra caro simone non sa manco chi è zoomino e mister flame non sa manco chi è zoomino gianluca non sa manco chi è zoomino no quindi e diciamo tutto questo beat alla fine c'è secondo me dietro al cebro l'eso podcast scusate i capelli però secondo me dietro al cebro l'eso podcast ovvero la mente pensante il cervello no del cebro l'eso potta secondo me è questa ragazza questa red lillium no perché come vi ho detto no se voi ci fate caso ogni argomento che lei tratta su instagram poi ne fanno una puntata sul cebro l'eso podcast ovvero zoomino che non so quante puntate hanno fatto sul cebro l'eso podcast per zoom e poi sta cosa di frida nel senso lei aveva pubblicato nelle stories la mattina no questa cosa di frida e poi chissà come ne hanno parlato la sera al cebro l'eso podcast questo per dirvi che dietro a ogni uomo si cela una bionda che conta top perché lei come sapete secondo me è una bionda che conta e l'ho pure invitata a diciamo a venire con me e le sud americans solo che ancora non mi ha risposto cioè ragazza top però questo per dirvi che ogni dietro ogni grande uomo c'è una bionda che conta e il mio dubbio è stato diciamo risolto perché io mi chiedevo ma come fanno questi uomini etero a portare argomenti così interessanti no cioè vabbè che io non ho mai seguito il cebro l'eso podcast cioè avrò seguito solo cioè non voglio sembrare cattiva però l'unica puntata che ho seguito è stata quella dove c'ero io top cioè quei cinque minuti dove ci stavo io poi diciamo non ho non ho tempo di seguirla e la scorsa diciamo volta ho visto mezz'oretta perché appunto mi stavo depilando il culo non so se si può dire e quindi ho avuto modo e piacere di seguirli no anche se non è una critica però io li trovo un po' lenti cioè mi piace quando c'è lei perché porta un po' di pepe per questo dico che secondo me lei è la testa pensante del cebro l'eso podcast perché le puntate con gli altri sono tutti un po' noiose cioè quando si parla di me le trovo molto divertenti però per il resto le trovo un po' lenti un po' noiose invece quando ci sta Red Lilium le trovo un po' più divertenti perché porta un po' di pepe per questo io a lei io l'ho invitata ad aprirsi un podcast e chiamarlo aspettando una bionda che conta top perché sarebbe top nel senso mi piace molto la trovo molto vivace no gli altri sono un po' perché ma perché sono uomini etro no sono un po' no un po' mosci un po' che tu dici ok ci vorrebbe un po' di pepe no e per questo come ho detto cento volte in questo video secondo me lei è la testa pensante del cebro l'eso podcast perché tre uomini è una capanna cioè tre uomini non è che arrivano lontano dico a livello di idee a livello di cose no cioè a livello di contenuti secondo me tre uomini etro non possono arrivare lontano a meno che non parlano di tette culo e pastorizia cioè di tette culo macchine e cose così nel senso non possono arrivare tanto lontano invece nel senso sono riuscite a portare sempre argomenti interessanti perché dietro di loro ci stava una donna e diciamo questa è un po' la metafora della vita perché dietro ogni politico dietro ogni uomo di successo c'è sempre una bionda che conta e niente ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto fatemi sapere voi cosa ne pensate se seguite il cebro l'eso podcast seguito il c'ebro l'eso podcast cosa ne pensate di simone mr marra ti aspetto follettino a porta venezia se lo trovate interessante seppure voi voreste diciamo una presenza fissa femminile non io cioè se volete red lium come presenza femminile fissa perché la trovate interessante secondo me può funzionare se volete Red Lilium come sì, se volete che lei aprisse un podcast non so l'italiano, scusatemi troppi soffoconi però per questo, nel senso se voi volete lei come cosa fissa se volete diciamo che lei si apra un podcast un podcast tutto suo perché io la trovo molto interessante e niente fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate non so più cosa dire top, love you baci stellari ciao, love you baci stellari ciao 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 ciao